Un primo tempo dominato ma senza riuscire a segnare. Un secondo tempo con tre reti che mettono al sicuro il risultato. La Virtus Entella archivia con la vittoria per 3-0 la pratica Aquila-Montevarchi e tiene il passo con le prime della classe e la terza posizione in classifica a 56 punti. Tante le occasioni da gol create nella prima frazione di gioco che non vengono concretizzate. La prima con Mercai al primo minuto di gioco e ancora l'attaccante biancocelesse al 33esimo e al 39esimo ma è proprio numero 33 a sbloccare la partita al minuto 48 su rigore nella ripresa a procurarlo Gaston Ramirez che fa tutto il campo palla al piede entra in area e viene atterrato da un difensore. L'arbitro non ha dubbi sul dischetto va Mercai che non sbaglia. Il vantaggio tranquillizza la squadra di Mr. Volpe che al minuto 56 raddoppia Zamparo tiene in gioco un pallone complicato. Passaggio per Corbari che fa partire un tiro teso che il portiere avversario riesce a ribattere ma è in agguato Tomaselli che raccoglie e la butta in rete 2-0. I giochi si chiudono poco dopo all'ottantaduesimo. Si attunisse con una palla tagliata dalla tre quarti trova Zamparo in area, tocco sotto e Giusti superato. È il 3-0 finale. Soddisfatto a fine partita Mr. Volpe che aveva chiesto alla squadra una risposta alla sconfitta di Vicenza in Coppa Italia. Credo che sia stata una risposta importante. Non è sempre scontato perché affrontare le squadre che si devono salvare non è semplice. La squadra è partita subito molto forte. L'unica cosa che posso dire è che bisogna essere un po' più cattivi soprattutto negli ultimi 30 metri perché abbiamo creato tanto nella prima frazione e la partita non può finire un primo tempo dopo che crei così tante occasioni. È soddisfatto per il gol all'esordio il giovane Tomaselli. Prima della partita ero un pochettino agitato perché comunque nuova società, nuovi tifosi e comunque come hai detto tu due mesi che non giocavo una partita però alla fine quando entro in campo mi si annulla tutto e penso solo a fare bene per me, per la squadra e per la società.